Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. In queste ultime ore, il mondo del gossip è impazzato per la notizia che riguarda Pamela Prati e Adriano Celentano. Secondo D'Agospia, infatti, i due ebbero una liaison. Proprio i colleghi di D'Agospia hanno deciso di rispolverare una intervista che la diva della TV fece molti anni fa. Si legge. A Roma, prima di lui avevo avuto soltanto un amore. Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent'anni, ero ugualmente abbastanza innocente. Nell'intervista riportata alla luce, la confessione shock. Ci amammo per due meravigliose notti e attendevo un figlio da lui. Stando a quanto raccontato, Pamela Prati informò Celentano di essere in dolce attesa tramite una telefonata. Il cantante, però, aveva reagito comportandosi con imbarazzo, come fosse un estraneo. Così le avrebbe detto che aveva già dei figli e che lei poteva stare più attenta. Quando seppe che avevo abortito, Adriano mi sgridò. Hai commesso un orribile peccato, disse. Un anno dopo quei giorni tremendi lo incontrai di nuovo a Roma. Fu gentile e mi invitò ad andarlo a trovare nel suo albergo, cosa che a me parve un insulto.